Calmi, 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 non vi preoccupate, l'analisi del capitolo 126 uscirà a giorni, godetevi il video intanto. Mi è venuto in mente proprio mentre stavo scrivendo la traccia del 126, perché normalmente io quando devo trattare dei video molto complicati mi scrivo una traccia. Una cosa che mi ha colpito moltissimo del capitolo, e che poi analizzeremo a parte, nell'insieme che ha delle tantissime altre cose, è Armin e la sua lotta interiore quando pensa al fatto di essere inferiore ad Erwin, è un tema ricorrente, uno dei tanti temi ricorrenti che Isayama ama inserire nella sua opera, temi ricorrenti diciamo della nostra quotidianità se vogliamo, perché alla fine se ci pensi tantissime persone non si sentono abbastanza, Cioè mi spiego meglio, Armin in quel frangente ti dà proprio diciamo la sensazione di essere sotto pressione, schiacciato dal peso del soldato che è stato sacrificato per salvare lui, Erwin Smith. Cioè e questa cosa qua del fatto che Armin si senta così tanto sotto pressione, come vi ho detto mi ha veramente colpito tanto, sembra una rinascita del personaggio, lui ha proprio questa sorta di scheletro gigante nell'armadio che è proprio lo scheletro di Erwin, letteralmente se vogliamo. La gente lo vede come la persona che è stata sacrificata per far sì che l'umanità potesse progredire, cioè hanno sacrificato più che altro una persona come Erwin, una persona che per tutti è riuscita in qualche modo a portare l'umanità dov'è. Che senza Erwin la ribellione non ci sarebbe stata, l'esplorazione non ci sarebbe stata, come è stata fatta almeno, ci sarebbero ancora molto indietro. E la gente questo lo sa, l'umanità lo sa, Erwin per l'umanità è un eroe. Quindi già il fatto che si sia sacrificato lui, uno con una posizione così altolocata, per un ragazzetto che non sa neanche ormai che pesci pigliare, cioè pensateci, è veramente, cioè se tu non hai le palle per gestire questa cosa, ciao Repulse, incredibile, ciao Magikarp, ciao, ciao Dio Buscaiolo, ciao grandissimi, cioè è veramente tosta da gestire se ci pensate. Il fatto che però mi ha colpito ancora di più, sapete qual è? È che nonostante lui sia sotto questa gran pressione, con l'aiuto degli amici, in questo caso Connie, adesso Mikaso e tutti quanti, lui sia riuscito a prendere coscienza di quello che è. Il messaggio che vuole passare, secondo il mio punto di vista, è che non importa quale sia il tuo ruolo nel mondo, le tue possibilità che ti sono state date in favore magari di altri, l'importante è che tu riesca a vedere il quadro completo e che allo stesso tempo fai affidamento sugli amici. Anche perché se voi ci pensate, Erwin, da solo, se tu ci pensi proprio bene, non ha mai fatto niente da solo, è sempre stato aiutato. Perché non è stato salvato? Perché Levi ha visto in lui una conclusione. Nel senso, lo stesso Erwin, casualmente, nel momento in cui Levi stava per salvare lui, con la mano ha fatto così. Come per dire, vuoi casualità, vuoi quello che vuoi, era un segno del destino. Quando tu arrivi comunque a capire, Levi mi riferisco, che il tuo comandante, in tutto questo, ha finito il suo ruolo, il suo ciclo, perché Levi, Erwin, una volta che ha scoperto cosa c'era nella cantina e che c'era una vita al di là delle mura, basta, per lui era finito. Perché lui voleva completare ciò che il padre gli aveva detto. Cioè, mio padre, il padre di Erwin, è stato ucciso a causa sua, a causa della sua stupidità, a causa della stupidità di Erwin. E questo lui ha pesato molto. Quindi, una volta che è arrivato a fermare quello per cui il suo padre è stato ammazzato, per lui è finita. Tutto quello che ha fatto prima era per confermare questa cosa. Quindi, basta, non aveva altro da fare lui lì. Era finito. Nonostante sia stato un comandante eccezionale, è finito lì. E questo lo sa solo Levi, praticamente. Lo sa solo lui. Ed è per questo che ha salvato anche Armin. Ed è questo il motivo. Non lo sa neanche Armin, secondo me, sta cosa. Perché se no, non avrebbe questa lotta interiore. Ma, ritornando al discorso principale, Armin, quello che ci hanno fatto capire, tramite dei pannelli, che secondo me sono stati molto importanti, anche per una crescita, magari, proprio personale nostra, è che tu, senza gli amici, è difficile che vai avanti. È veramente qualcosa di molto bello, molto bello. Mi è piaciuto tanto. Molto figo. Però Erwin voleva solamente sapere se la... Esattamente, esattamente, Valo, esattamente. Quindi, al di là di tutto, tra l'altro, Bottle, grazie mille per i sei mesi. Grazie mille. È come la rinascita di Armin. Cioè, questo per me, da qui in avanti, mi aspetto che lui abbia la forza di continuare a lottare con gli amici che adesso ha. Perché se tu prendi il parallelismo di Eren, quando prende Ymir, che dice dammi la forza per distruggere il mondo, d'altro canto, Connie e gli altri dicono uniamoci, dobbiamo andare a salvare il mondo. Quindi, che prenda questa forza, che la porti oltre. È difficile, cioè, per quanto uno possa star bene da solo. E questo è il messaggio che, secondo me, ha voluto mandare. Poi, è una cosa un po' profonda, magari, la mia. Magari è una cagata. È un discorso veramente particolare che nel video del 126 introdurrò. Però, siccome che è veramente tanto particolare, non voglio che porti via spazio a tutto il capitolo. Sono contento di averne parlato adesso qui con voi, anche perché, se volete dirmi come ha detto la vostra, siete sempre benvenuti per ampliare un po' il discorso.